ciao videomaker questa è la prima puntata diciamo così una cosa che non è stata pianificata come diciamo un video blog sulla sulla mia esperienza in youtube diciamo che adesso con la scusa che sono appena sono appena ritornato sto ritornando dalla palestra ed è una di quelle buone abitudini che ho preso da poco quindi spero di essere costante almeno in quello per il resto la mia esperienza su youtube per il momento è un po ferma ma perché perché ci sono state due o tre cose che mi hanno un po rallentato e c'è stata c'è stato un trasloco e la famosa lavagna in bianco diciamo così ecco un blocco del creativo mi sforzo un po a fare anche questa prima puntata di un blog anche perché così abituo me stesso a registrare quindi è più per me che per te lo faccio questo questo video questa prima puntata non ho nulla da diciamo niente di preparato quindi è più un video abbraccio sto riscontrando che in internet ci sono veramente in google in youtube ci sono veramente tantissimi video che parlano di seo di marketing posizionamento l'importanza dei video in questa epoca di marketing quindi diciamo che il la fetta di mercato scelta sembra sembra buona adesso spero che non che non mi ammazzino sto passando la strada quindi per il momento è questo la prima puntata di un video blog e un po per fare un resoconto un po per conoscerti meglio un po per cosa conoscerci meglio se c'hai qualche domanda qualche dubbio mi lascia lascia un messaggio un commento e magari può essere uno spunto per un video futuro iscriviti al canale e clicca la campanella queste sono le cose da dire grazie a presto